Mi ha affascinato molto per il suo suono, per la sua appunto sonorità. Studiare catalano per me vuol dire stabilire una migliore coesione a livello sociale, soprattutto grazie alla promozione della diversità linguistica. I parlanti di lingua catalana in realtà sono 10 milioni, più di 10 milioni, in quattro paesi differenti. Lo sapevate che in realtà il catalano si parla anche in Italia, in particolar modo in Sardegna, ad Alghero? Ho scoperto un universo culturale ricchissimo. La Catalogna ha una storia che va dal Medioevo fino ad oggi, piena davvero di eventi, di personaggi culturalmente molto rilevanti. Si vedono per le strade di quartiere, come Feste della città, la Festa di San Juan e la Festa di San Giordi. Sono esperienze che, se sei uno studente della mia età, ti rimangono impresse e te le ricordi per sempre. Mi permette di entrare e far parte di un nuovo universo culturale riconosciuto a livello internazionale. Mi sono innamorata e appassionata fin da subito a questa lingua, grazie alla sua musicalità, alla sua sonorità e grazie alla sua letteratura che trovo davvero affascinante. Mi si è aperto un mondo perché il corso di lingua e cultura catalana, oltre ad essere molto interessante, è anche divertente e offre la possibilità di partecipare a un sacco di attività culturali. E con questa certificazione ho avuto la possibilità di partecipare al bando del minorro come assistente di italiano all'estero. Il catalano mi ha permesso di affrontare la mia prima esperienza lavorativa come interprete di lingua catalana e italiana. Dopodiché ho vissuto a Barcellona, ho lavorato lì come insegnante di italiano in una scuola. Consiglio a tutti gli studenti, universitari e nonno, di iniziare a intraprendere il percorso di studi per questa lingua. Vedrete che non ve ne pentirete. È una lingua che non molti conoscono in Europa. Studiare catalano per me è stata quasi come una rinascita, scoprire questa nuova lingua, conoscere queste nuove persone con cui tuttora sono in contatto. Ho partecipato all'estate linguistica che mi ha permesso di conoscere tantissime persone provenienti da tutto il mondo, che è appunto con l'unico scopo di imparare la lingua e la cultura catalana. Una delle attività che mi è piaciuta di più durante il corso è stato l'intercambio linguistico con gli studenti dell'Università di Valencia. Mi sono innamorata della Catalogna, di Barcellona, dove sono stata. Ho conosciuto tantissimi studenti internazionali che stranamente tra di loro parlavano catalano. Credo sia importante parlare la lingua nella città in cui si parla. Antecipavano a dei programmi come i Tandem Linguistici, dove io parlavo la mia lingua materna e loro mi parlavano in catalano. E mi mostravano anche la loro cultura, le loro feste, che sono molto sentite. Io sono stato per fare un Erasmus, quindi nell'ambito dei miei studi universitari, che in questo caso la lingua catalana mi è stata utilissima per seguire le lezioni e poter svolgere i miei esami. Ti dà tanti ricordi e è un'esperienza bellissima che non avrei mai se non fosse successa questa casualità di conoscere il catalano.